Buonasera e ben ritrovati. Nuova puntata, andiamo su quello che è uno degli ultimi fenomeni, l'ultima settimana, ovvero il fenomeno dell'immigrazione, ma soprattutto i vari sbarchi che abbiamo assistito a Lampedusa, a Catania e in tanti porti dell'Italia. La situazione politica molto delicata in Europa, ma soprattutto anche il governo francese e il governo italiano, che un po' si rimpallano le competenze, il governo francese addita delle colpe a quello italiano sui vari smistamenti. I migranti dunque integrazione, qual è il ruolo dell'Europa? È un fenomeno epocale, un fenomeno che è sempre esistito, ma in alcune periodi dell'anno torna in maniera prepotente. Non è solo un discorso italiano, non è solo un discorso nostro che siamo di Italia, siamo il primo paese dal Nord Africa o da altre zone. Molto spesso queste persone usano l'Italia anche come mezzo per andare da altre parti. È un problema comune, è un discorso allargato sicuramente europeo e poche ore fa è la denuncia penale presentata dall'AIA del Centro Europeo per i diritti costituzionali umani che accusa i politici di aver commesso crimini internazionali tra il 2018 e il 2021, intercettando anche barche nel Mediterraneo e rimandando rifugiati nei campi di prigionia dalla Libia. Il governo italiano è cambiato da poco, ha parlato molto anche di immigrazione e di mettere mano all'origine del problema. Cioè se ne parla in Europa ma dobbiamo creare anche dei punti, dobbiamo cooperare affinché non ci siano più morti in Mediterraneo, questo è anche un altro discorso da dire. E ne parliamo insieme a tanti ospiti, insomma i meriti. Io saluto e ringrazio qui il Presidente con me Andrea Natalini, esperto di geopolitica. Salve, buonasera. Buonasera e buonasera anche a Carlo Giovanardi, ex senatore politico e popolari liberali. Grazie per aver accettato di nuovo il nostro invito. Grazie a voi. E allora, Giovanardi, è uno dei problemi che riguarda appunto i migranti e l'integrazione verso la società adattivo. Secondo lei quale potrebbe essere anche il modello più adatto per garantire un processo di integrazione efficace? Allora, se mi permetti vorrei fare in questo intervento una diagnosi, qui parliamo delle terapie, perché il problema dell'immigrazione è da 2000 anni che è l'attualità, 2000 anni. Penso che quando i gotti entrarono a Roma, saccheggiarono i quartieri dove adesso c'è la suburra e le vie dei serpenti, perché non saccheggiarono la suburra, ma i quartieri romani, perché la parte della Roma popolare già era nei primi secoli abitata da gente che veniva dall'Africa, dalla Germania, dalla Romania, che non erano romani, erano emigrati. I Longobardi, quando sono arrivati qua e hanno occupato la Lombardia, erano il popolo barbaro che gli altri consideravano il più selvaggio e più incivile che fosse mai arrivato in Italia. Si sono trasformati nei Lombardi di oggi, i Longobardi. Poi ci sono stati secoli, diciamo, bui in cui l'Italia è rimasta isolata. Questi fenomeni, salvo gli arabi che hanno preso metà dell'Italia alla fine degli anni 1000, Bari è stato un califato per quasi 80 anni, il fenomeno si è riproposto negli ultimi anni in maniera così veloce, perché essendo cambiate le condizioni, anche quelle della possibilità di viaggiare, abbiamo oggi una realtà nella quale abbiamo un miliardo di persone in Africa, un miliardo, e abbiamo in Europa, soprattutto in Italia, un calo demografico che ci porta, avete visto le proiezioni, da 60 milioni a pagare 40 milioni di abitanti nei prossimi anni. In sostanza, se noi facciamo la fotografia dell'Inghilterra, della Francia, degli altri paesi europei, non parliamo degli Stati Uniti, chi va a Londra, chi va a Parigi, va in realtà assolutamente, dal punto di vista razziale, di melting pot, perché quei paesi funzionano attraverso un meccanismo di emigrazione che è venuto dalle colonie, che è venuto dai possedimenti, e comunque convivono con grandi difficoltà con questa realtà. Noi siamo partiti in ritardo, ma abbiamo a che fare con lo stesso fenomeno. Ora, concludo la diagnosi. Non possiamo piegare tutta l'Africa, perché un miliardo di persone in Italia e in Europa non ci stanno. Dal resto, non possiamo neanche dire chiudiamo tutto, perché non esiste chiudiamo tutto, perché sono i nostri imprenditori, sono le nostre famiglie, sono le nostre imprese, a chiedere mano d'opera e a chiedere migranti. Poi, se facciamo la foto delle scuole italiane di oggi, e adesso, mentre parlo, a Modena, a Roma, al sud, vediamo che nelle classi elementari e nelle classi medie, metà dei bambini, in certe zone anche di più, vengono da tutto il mondo, da 102 etnie diverse che oggi risiedono in Italia. Quindi questa è la fotografia della situazione, e chi è fatemagogia che la vuole negare. Il problema è come governare questo fenomeno. Allora, si sono attaccate spesso le ONG, Dott. Salvini ha un processo in corso diversi anni fa. Allora, queste organizzazioni non governative, è possibile, secondo lei, in un'ottica, diciamo, futura, mettersi a tavolino e poterle integrare con le attività umane e anche quelle governative ufficiali, cioè quelle ovviamente degli stati? Allora, questo fenomeno va governato, a mio avviso, intanto con l'integrazione di chi viene. Perché non è che alla gente diano fastidio alle badanti o ai braccianti agricoli nel Veneto che stanno nelle stalle, alla gente dà fastidio sacche di povertà, di emarginazione, qualche volta di delinquenza, di disperati che vengono qua e non avendo lavoro, e non sapendo come sbarcare il lunario, vengono anche sfruttati dalla criminalità organizzata. Quindi il primo problema non sono le chiacchiere, sono politiche serie di integrazione di queste persone e delle loro famiglie. Il che è possibile soltanto se il numero di quelli che vengono qua sia un numero sopportabile e integrabile. Si può integrare un milione di persone, due milioni di persone, tre milioni di persone in un po' di tempo. Non si possono integrare evidentemente 50 milioni di persone, perché negli Stati Uniti, quando gli italiani andarono là, diventarono cittadini negli Stati Uniti, e nel 1943, quando sbarcavano in Sicilia, gli italiani e americani ci mettevano la mano sul cuore e combattevano per le stelle strisce. C'erano integrati talmente che vari Frank Sinatra e Pericomo parlavano solo inglese e non parlavano neanche più italiano, anche se le loro famiglie erano nate da 50 anni prima. Quindi c'è anche un problema identitario di dire che chi viene qua non solo viene in Italia, dovrebbe sentirsi italiano, intestarsi alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra civiltà. Se volete rispettare, anzi, assolutamente, la nostra tradizione cristiana, e questo è un lavoro che prescinde dal fatto che ci sia uno sbarco più uno sbarco in meno. Dal punto di vista dello sbarco di più uno sbarco in meno, aveva perfettamente ragione Minniti che finché non ci si mette d'accordo con gli Stati africani, con la Libia e con gli Stati frontalieri, il fenomeno rimane comunque sempre fuori controllo. Perché quando le navi affondano, la legge del mare impone di salvarli e di portarli in Italia. Quindi ci sono una serie di polemiche che sono ripetitive, qualunque il governo arriva, anche questo. Sul governo, aspetta, per dire un attimo, perché ci voglio tornare, un attimo proprio una domanda sulle leggi. Voglio capire anche in Europa come sta muovendo. Abbiamo raccolto varie testimonianze. Cominciamo da Alessandra Moretti, onore parlamentare, gruppo dell'alleanza progressista, insomma ovviamente del PD. Siamo andati noi a Bruxelles a sentirla su questo tema. Ancora di questi giorni il tema dei migranti, alle cronache va allo scontro Francia-Italia ancora, sulla redistribuzione appunto dei stessi profughi. Insomma c'è da parlare anche del Trattato di Dublino e quello che va cambiato. Guardi, il Trattato di Dublino risale al 2004. Governo Berlusconi, abbiamo tentato più volte di modificarlo in questi anni, ma diciamo partiti come quello di Salvini e di Meloni hanno sempre detto no. E questo ovviamente ci ha impedito di innovare, di migliorare quel principio per cui il migrante è sulle spalle del Paese che lo accoglie per primo. Noi vogliamo invece affermare con determinazione che la responsabilità dell'accoglienza è di tutti i 27 Paesi europei. Mario Draghi a giugno aveva siglato un patto con Macron che portava ad una corresponsabilità. Quel patto purtroppo è stato stralciato proprio dal Governo Meloni. Mi spiace perché poteva essere un primo passo per innovare il Trattato di Dublino. Spero che l'Italia non si isoli rispetto all'Europa perché ci sono tante questioni su cui parlare. Prima di tutto il rincaro dei prezzi, il tetto al prezzo del gas e l'Italia non può essere ovviamente sola, ma deve lavorare in squadra con tutti gli altri. Natalini, dal punto di vista pratico la procedura perché insomma il migrante una volta arrivato possa trovare lo status di rifugiato, qual è? Allora, il migrante appena arrivato in Italia presenta domanda di protezione internazionale alle autorità all'arrivo. Viene controllata, verificata la sua identità. In particolare se è a un'età minima di 14 anni gli vengono prese anche le impronte digitali e vengono inserite in una banca dati europea per verificare se è già passato, è già stato identificato in un altro paese. Questo perché? Perché il regolamento Dublino del 2015 prevede che la domanda di protezione internazionale venga esaminata dal paese di primo accesso. Quindi se è stato già identificato in un paese, ad esempio in Francia, è la Francia che dovrebbe esaminare la domanda di protezione internazionale. Comunque una volta fatta l'identificazione, la domanda viene esaminata dai comitati territoriali che sono istituiti presso le prefetture, attualmente ce ne sono 10 in Italia, che esaminano la domanda. C'è una commissione che poi esamina il candidato con un'intervista. C'è un presidente della commissione, c'è un rappresentante dell'alto commissariato dei rifugiati delle Nazioni Unite, due rappresentanti del Ministero degli Interni. si fa un'intervista alla fine della quale termina l'iter, nel giro di settimane o mesi anche, viene esaminata la domanda. Alla fine di questo iter può essere dato lo status di rifugiato alla persona. Nel frattempo i migranti, in attesa di una risposta, alloggiano presso i centri di accoglienza dei rifugiati di Asili, i famosi Cara. Allora, Giovanardi, torniamo sul discorso politico. Ecco, bisogna ampliare leggi, bisogna creare nuove norme, oppure basta così? Abbiamo visto anche, non solo in Italia, ma anche in Europa, un rimpallo di competenze tra governo italiano e governo francese, siamo stati anche accusati. Insomma, come siamo messi? Guardi, ho sentito l'intervento dell'onorevole Moretti, che l'ho trovato strumentale, demagogico, perché, vabbè, un rimpallo di responsabilità, attacchi politici. Io credo che invece si debbano fare le cose. Io, per esempio, le ho fatte quando ero a governo, se le ricorderai, ero ministro del rapporto con il Parlamento, nel 2002, esattamente vent'anni fa, convinci Bossi, e non fu facile, tre ore di discussione, lui in canottiera d'estate, nel suo ufficio, piuttosto anche io, già che cravatta, per dialogare alla pari, e alla fine di quel colloquio, lei ricorderà, nacque una regolarizzazione, non sanatoria, regolarizzazione, di 700.000 immigrati, 350.000 erano colfe badanti, addette ai servizi familiari, 350.000 erano lavoratori dipendenti, che funzionò in maniera tale che il datore di lavoro doveva mandare una raccomandata alle prefetture, pagando sei mesi di arretrato di lavoro svolto, regolarizzando il rapporto di lavoro, facendolo diventare regolare, quindi facendoli emergere dal nero. Io avevo detto a Bossi che saranno stati 100.000, ho dovuto rassicurare anche la conferenza del Biscopale Italiano che diceva che era un fallimento perché nessuno si stava regolarizzando, in realtà prima del mese di tempo eravamo già a 600.000, alla fine siamo stati a 700.000 e dieci anni dopo, quando ho fatto una verifica di che fine avevano fatto quei contratti di lavoro, l'80% era ancora in vita, cioè quel contratto di lavoro che ha fatto emergere dal nero, ha fatto incassare allo Stato centinaia di milioni di euro perché hanno pagato anche gli arretrati e poi ogni mese pagavano i contributi che dovevano pagare. Ha fatto emergere dal nero il fenomeno e il problema è che dopo nessuno più l'ha fatto. Infatti quello volevo dire, cioè era troppo, era diciamo una norma molto futurista oppure stiamo ancora indietro? È una risposta. Bisogna prendere anche provvedimenti amministrativi coraggiosi sapendo, e lo ripeto, che la domanda di lavoro dagli ex-exit comunitari viene dalla società italiana, non è che venga da nulla. Allora bisogna evitare lo sfruttamento, bisogna evitare di vedere quelle scene terrificanti al sud dei ghetti in cui vengono tenuti gli emigrati, lo sfruttamento, lo sfruttamento probabilmente anche fra di loro come è emerso nella recente vicenda del neoparlamentare, poi vedremo esattamente come stanno le cose, però voglio dire, non è che il problema vada agitato solo teoricamente per andare a pigliare dei voti. Il governo... No, Giovanardi, siamo ancora indietro allora, cioè siamo rimasti un po' indietro, questa è la storia. No, ho l'impressione che questo tipo di realtà venga affrontato per pigliare dei voti, cioè venga strumentalmente agitato, perché è più facile fare polemica, dicendo non vogliamo gli emigrati, vuole gli emigrati all'Italia, basta con gli sbarchi. E poi, io ricordo anche che l'Italia ha 60 milioni di abitanti, ma 70 milioni di italiani sono all'estero, 70 milioni, cioè sono più gli italiani emigrati in America, in Australia, in Europa, di quanto sono gli italiani che sono rimasti in Italia. Ok, concetto è chiaro. Voglio sapere anche, visto che ci sentiva in preascolto, anche su Adspai, che saluto e ringrazio, che fa sempre parte ormai della nostra grande squadra, presidente Acme Donne, politica, scrittrice, saggista, insomma, sempre in prima fila per quanto riguarda questi discorsi. Abbiamo sentito quello che è il pensiero di Giovanardi, sta facendo un po' il punto della situazione. Come siamo messi noi in Italia? Poi Suad Sbai conosce molto bene anche la realtà francese, c'è questo impallo di governi, di competenze, quasi di colpe. Buonasera, intanto. La situazione dell'immigrazione è una situazione drammatica. Abbiamo fatto entrare migliaia e migliaia di persone senza sapere chi sono, da dove vengono, l'età, per esempio. E' un altro problema, sono arrivati solo uomini, tanti uomini, poche donne, pochissime donne. Il problema è grave, non è un problema solo italiano, ma è un problema che l'Europa si è prelavata le mani, l'Europa, adesso che tocca alla Francia, stanno un po' in agitazione come altre parti. Per carità, scappano dalla guerra, chi scappa dalla guerra? In Africa, in Nord Africa, oggi non ci sono guerre, la guerra in Libia, libici non ci sono in quei varconi, arrivano persone che sono aiutati da altri gruppi per farli venire, per farli venire, tutto qua. Certo che servono tanti controlli, serve quel famoso Frontex che c'era prima, comunque, che controllava i territori italiani, serve ordine, perché io sono dell'idea chi arriva, bisogna capire almeno chi è, da dove arriva, qual è il suo processo, anche di integrazione, a me preoccupa soprattutto le persone che arrivano con una radicalizzazione già formata e l'Europa, l'Occidente, l'Italia non è pronta né a deradicalizzare né a ricevere tanta gente che non è, non ha interesse di integrarsi assolutamente, noi con le comunità ci combattiamo tutti i giorni e devo dire cercare di integrare qualcuno, facciamo fatica, non tutti, io non amo generalizzare, ma una buona parte purtroppo non ha nessun interesse a integrarsi e chi non ha interesse a integrarsi nel nostro paese, nel nostro tessuto è un problema, io inizierei proprio da qua, da 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 dove vengono, chi sono, un bel censimento anche di quelli che sono già arrivati, un bel censimento vedere un po' il loro processo, che cosa hanno fatto in altre parti, perché non dimentichiamo che Mezza Africa ha aperto i suoi carceri solo un anno fa, lasciandoli liberi e qualcuno è arrivato anche qua, secondo me ma sui minori su altri sbaglio sui minori che ne arrivano anche tanti e soprattutto non accompagnati è un fenomeno che sta avvenendo fuori ultimamente dipende perché i minori non accompagnati ne abbiamo visto i minori ecco non ci sono tanti minori molti ragazzi si fanno passare per minori ma hanno 18 19 anni delle volte anche 20 21 sembrano più giovani è quello che vediamo purtroppo che abbiamo visto nelle nostre città che girano con tanta violenza bisogna sapere chi sono sono minori e allora bisogna i minori vengono messi in un posto dove vengono integrati insegnarli un mestiere la lingua o darli in affido non lasciarli nei centri di accoglienza dove non fanno nulla dalla mattina alla sera con un cellulare attaccati a TikTok dove incontrano i peggiori criminali di questo mondo c'è anche questo perché nel TikTok gira di tutto e loro sono collegati 24 ore su 24 questo è un errore madonnale ma devono andare a scuola il minore deve andare a scuola bisogna oppure chiamare anche i paesi di provenienza e vedere un pochino i familiari ma a livello di situazione politica come si riesce perché poi abbiamo sentito tanto anche nelle ultime settimane col nuovo governo poter smascherare organizzazioni terroristiche internazionali operare sul territorio Libia Nord Africa come si fa a interagire è un discorso di intelligence estremizzo ovviamente o è un discorso che si può realizzare con i governi locali si può organizzare con i governi locali perché no perché la maggior parte arriva comunque dal Nord Africa dall'Africa si può aprire un dialogo purtroppo con il governo 5 Stelle con De Maio ecco non ha aperto nessun dialogo sono stati anni bui ma lo dicono anche i stessi paesi del Nord Africa e africani che non hanno rapporti con l'Italia non avevano rapporti con l'Italia questo è stato un errore madonna perché avere degli accordi con i paesi è importante perché là dove ci sono delle irregolarità bisogna fare dei charter e mandare via le persone e quello che vedo anche nell'immagine sono tanti uomini tantissimi uomini scappano perfetto uno li fa anche scendere dalla nave benissimo però bisogna anche vedere un attimino dove collegarli se no anche ritorno alla patria ma se diamo solo il segnale che chi arriva qui rischia di tornare indietro non dimentichiamo che queste persone pagano dei 3.000 ai 4.000 6.000 euro a viaggio questo vuol dire un guadagno di una vita in Africa vuol dire che ci sono ecco dei scaffisti dei criminali che purtroppo fanno di raro con questa gente torno a Giovanardi abbiamo sentito anche il discorso politico Italia Francia è un discorso oggi allargato non è più solo un problema italiano allargato all'Europa in Europa se ne parla poi come è relativo ma ecco rispetto al governo francese come ci poniamo? guardi è un fenomeno mondiale europeo ed italiano grazie a saluto la mia collega Swazbaike è l'esempio vivente è qui di una signora che viene dal Marocco si è integrata perfettamente nel nostro paese è stata parlamentare è presidente di una associazione come sindaco di Londra se non sbaglio è un estracomunitario attualmente sindaco di Londra se non era il nuovo leader capo il nuovo primo ministro inglese anche lui è a origine estracomunitaria quindi io comincerei a dividere il problema dell'immigrazione stabilendo l'alleanza fra le persone per bene che ci sono ovunque perché in Italia non dimentichiamo siamo la parte dell'andrancheta della mafia della camorra che ci sono ancora in Italia e condizionano parte del nostro territorio del sud quindi le persone per bene e non per bene ci sono dappertutto e gli esempi che ho fatto la mia collega e l'esempio dell'individere dimostrano che l'integrazione è possibile poi certo anch'io vorrei chiedere proprio a Swad come interpreta questi fenomeni quando vedo che il Marocco vince sul Belgio 2 a 0 e in Belgio ci sono disordini provocati da ragazzi marocchini che vivono in Belgio allora capisco che la strada è assolutamente in salita ho visto il capitano della squadra marocchina che ha detto no se sono comprati così non sono marocchini dovrebbero avere rispetto del paese c'è un po' bruciato Giovanardi è un tema che volevo affrontare con Swad sbagli lo ho anticipato perché siamo dentro questo meccanismo dove a me che cosa fa paura fanno paura due cose uno è appunto la demagogia di chi pensa di risolvere il problema dell'immigrazione con delle barriere che non serviranno mai perché signori faccio presente che centinaia 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 di persone preferiscono morire in mare annegate piuttosto che rimanere nelle condizioni in cui vivono nel loro paese quindi è difficile fermarli con misura amministrativa o con blocchi navali eccetera eccetera è un fenomeno che va governato allora da un lato quelli che dicono blocchiamo tutto e fanno demagogia non vanno da nessuna parte dall'altro però quelli che come me ritengono che l'integrazione sia possibile devono essere assolutamente rigorosi nell'indicare le condizioni per le quali uno poi che viene qua o qua in Francia o in Inghilterra si integri perfettamente con noi rispettando le nostre leggi le nostre tradizioni la nostra cultura perché se non lo fa questo è chiaro è chiaro perché devo andare in pausa su what the spire bisogna trovare una strada stretta fra queste due esigenze sugli incidenti a Bruxelles gli incidenti a Bruxelles è un segnale importantissimo perché chi è sceso in piazza a fare quel disordine sono tutti tutti una delinquenza intanto e non dimentichiamo che l'estremismo estremista l'estremismo islamista non ha gradito tanto questo diciamo questo questo fenomeno nuovo del esseri tifosi del calcio è un tema io lo tratterei lo sto lo stiamo studiando però quelli che sono scesi in piazza non sono né marocchini ma neanche belga non dimentichiamo che sono della seconda terza generazione belga non chiamerai neanche più marocchini però sono quelli che non li piace questo calcio non li piace che la gente è molto interessata non pensa all'estremismo non pensa all'radicalismo pensa più al calcio che non sono felice e secondo me bisogna andare proprio sulla via dello sport tanto sport tanto sport perché questo blocca il processo del del jihadismo della fratellanza musulmana che è piena in Europa e questo secondo me è importante hanno festeggiato in marocco non è successo niente in francia in italia hanno festeggiato in belgio purtroppo abbiamo una roccaforte del del jihadismo arriva dal mollenbeck arrivano delle periferie che questa questione del calcio non li va giù non li va giù e secondo me è la via giusta ecco da oggi in poi secondo me lo sport potrebbe essere la via giusta sia per l'integrazione che anche il fenomeno sono assolutamente d'accordo un grande aggregatore un grande sviluppatore sociale morale lo sport a tutto tonno non solo il calcio io devo andare in pausa quindi saluto e ringrazio ancora una volta per la partecipazione Carlo Giovanardi grazie Giovanardi alla prossima buona serata buona serata a voi grazie su Azbar rimane ancora con noi in pochi istanti torniamo buona serata benvenuto all'europarlamentare dei fratelli d'Italia Vincenzo Sofo grazie per aver accettato il nostro invito buonasera grazie a voi insomma in Europa si allarga sicuramente il discorso non solo in Italia volevo dire parlare con lei insomma visto che ci ha sentito sul finale del blocco precedente quanto riguarda l'ONG che spesso sono al centro di cronache insomma il loro ruolo nel salvataggio di migranti secondo lei esiste anche il rischio che la presenza di unità di salvataggio in Mediterraneo possa fungere da stimolo insomma alle partenze cioè il fatto che ci siano le ONG che comunque portano in salvo i migranti questa non non è neanche una teoria questo è un dato acclarato e che è acclarato dalla stessa agenzia europea che si occupa della gestione e della sorveglianza dei flussi migratori che è Frontex quindi è pieno di report a livello europeo e a livello anche dei singoli stati nazionali che certificano il fatto che le ONG volontariamente o involontariamente siano un fattore che attira e che spinge i trafficanti di uomini a immettere tutta questa gente in mare non è un caso che quando per chi diciamo ha avuto modo di leggerlo ma quando il ministro Minniti propose il suo codice di condotta che guarda caso poi fu infatti respinto dalla maggior parte dell'ONG uno dei punti all'interno di questo codice di condotta era quello proprio di impegnarsi chiedeva l'impegno all'ONG di non incentivare per esempio attraverso i segnali luminosi i fari eccetera la loro presenza alle navi diciamo di trafficanti di scafisti che diciamo per non incentivare l'immissione in mare di queste persone è un discorso molto allargato non solo Italia Francia che si sono un po' rimpalati io torno su questo discorso perché insomma non ci aspettiamo dai vicini un comportamento dai vicini invece ci hanno gettato un po' del fango addosso ecco come si è risolta o no questa situazione cioè l'Europa può mediare in questo i due governi che un po' litigano l'Europa dovrebbe ovviamente mediare perché se abbiamo avuto questo litigio tra Italia e Francia in primis perché c'è un vuoto c'è un'assenza da parte dell'Europa sulla vicenda diciamo della disputa con la Francia paese diciamo che segue anche per motivi familiari molto da molto da vicino c'è un dato interessante che è da segnalare il fatto che la popolazione francese è stata per la grandissima maggioranza schierata con il governo italiano non con il governo francese nell'affare Osan Viking e questo dicono tutti i sondaggi di opinione che sono stati fatti io stesso ho rilasciato diverse interviste per le televisioni francese e in realtà diciamo se non c'era un'unanimità ma c'era una larghissima maggioranza che si esprimeva a favore nostro non è un caso che quando sono arrivati diciamo quelli 250 circa migranti della Osan Viking i diciamo sedicenti minori quelli che si definivano minori nel giro di qualche ora sono spariti se la sono dando a gambe non si sa più dove siano la metà di essi subito il governo francese ha detto questi non sono richiedenti asilo ma sono immigrati clandestini che quindi devono lasciare il territorio e quindi in realtà nei fatti hanno giustificato tutte le posizioni che diciamo che noi teniamo che noi teniamo teniamo da anni dopodiché io vi segnalo un'altra cosa che è stata poco poco rilevata e che invece secondo me è molto importante io l'ho l'ho segnalata con un'interrogazione parlamentare e anche durante il dibattito in aula perché quando diciamo sulla vicenda ONG ci siamo concentrati sulla questione bandiera ma non c'è soltanto la questione bandiera quindi degli stati bandiera ma c'è anche la questione finanziamenti cioè se noi prendiamo il caso di SOS Mediterranea cioè la ONG che gestisce la nave Ocean Viking scopriamo che soltanto negli ultimi due anni ha preso dalle amministrazioni pubbliche francesi locali regionali e nazionali oltre un milione di euro di finanziamento cioè comuni come Parigi comuni come Lione la stessa amministrazione ogni anno foraggiano i progetti di questa ONG e quando tu come amministrazione pubblica finanzi e sostieni economicamente un progetto è perché lo consideri di rilevanza diciamo sociale o comunque di una qualche rilevanza per quello che è il tuo paese noi non pensiamo pensare che chi fornisce diciamo nazionalità quindi bandiera a queste ONG chi fornisce finanziamenti e quindi le risorse per fare questa attività poi non si assuma né non si assuma assolutamente la responsabilità di quelle che siano le attività delle ONG questi stati chi finanzia e chi fornisce nazionalità a queste ONG è fondamentale che si inizi ad assumere la responsabilità dell'operato di questa realtà e la responsabilità è del singolo governo e dei singoli magari non lo so visto che non sono governative privati cioè ci deve essere una regolamentazione a livello governo non sono assolutamente perché è vero che non sono governative però intanto agisco con i soldi di gran parte che sono di governi e quindi in realtà il fenomeno da indagare qual è il fatto che queste ONG stanno sviluppando sempre più una vera e propria politica di immigrazione parallela e una vera e propria diciamo pressione geopolitica anche nei confronti dei paesi è per questo che un Stato come l'Italia con un governo appena arrivato che poi io segnalo diciamo maliziosamente che insomma se poi andiamo a vedere ogni volta che poi in Italia si insedia un governo di destra subito queste ONG iniziano a spuntare come funghi a largo delle nostre coste quando si insediano governi di sinistra invece diciamo la loro attività magicamente si magicamente si placa ma il fatto che l'immigrazione che gli sbarchi che i flussi migratori siano una leva di pressione geopolitica lo testimonia una notizia che è passata molto sotto traccia che appena si è insediato il governo Meloni dalla Libia è partito un barcone con 500 migranti fatto partire non da ONG non da scafisti ma dal generale Haftar come segnale politico questo è uscito su alcuni giornali poi non è stato dato a eco quindi proprio per spingere il governo a dire devi metterti a negoziare diciamo con noi se vuoi diciamo se vuoi proteggere le tue frontiere che è come la stessa cosa che ha fatto diverse volte anche Erdogan per esempio con la Turchia è normale che se noi appaltiamo la nostra sicurezza e le nostre frontiere ad altri poi questi altri la utilizzano come leva per avere un potere negoziale nei nostri confronti la domanda che ho fatto prima gliela ripropongo negoziare trattare qual è il termine adatto in tessere dei buoni rapporti politici ovviamente con i governi di appartenenza di non far partire questi barconi come ci si può riuscire è evidente allora il punto essenziale è avere una politica di difesa delle frontiere come ce l'ha chiunque non è un caso che i tre la famosa foto che ha fatto scalpore dei tre nigeriani che si sono fatti undici giorni di viaggio abbracciati diciamo al timone della nave una volta arrivati in Spagna la Spagna ha preso e ha detto benissimo ci dispiace però siete immigrati illegali quindi venire per tornare a casa loro nessuno ha fatto polemica semplicemente perché il governo spagnolo non è di destra ma è di sinistra se è un governo socialista bisogna riattivare una politica di difesa delle frontiere perché l'integrità delle frontiere è il principio base per il rispetto anche delle regole per spingere verso un'immigrazione legale e non illegale e poi sicuramente lavorare geopoliticamente e anche con piani di sviluppo concreti seri di quei territori per la stabilità di quelli che sono i paesi che strontano l'altra sponda del Mediterraneo perché gran parte delle conseguenze della situazione della crisi migratore che noi viviamo oggi è figlia di un diciamo un disastro geopolitico che è stato compiuto dall'Europa e dall'Occidente nel momento in cui c'è stato il dossier Libia in generale delle primavere arabe quindi praticamente ci sono gli strumenti legislativi per impatriare tutte quelle persone che non si meritano protezione internazionale o che non possono entrare in Europa il problema il problema è che non devono essere fatte entrare perché non devono essere fatte entrare perché io ascoltavo quello che diceva Giovanardi uno sul principio può dire ok benissimo d'accordo noi questi arrivano noi vediamo chi ha diritto d'asilo e lo accogliamo e chi non ha diritto d'asilo invece insomma deve tornare a casa loro oppure vogliono venire a stare qui però si devono integrare però segnalo che A è difficilissimo perché le procedure per rimpatriare sono difficilissime e infatti sappiamo che i numeri di rimpatri sono irrisori i ricollocamenti sono un altro blef perché non funzionano e non sono la soluzione perché non è che noi allora con il ricollocamento noi possiamo pensare di prenderci potenzialmente 500 milioni di africani perché questa è la cifra del numero di africani che vorrebbe secondo le inchieste i sondaggi venirse in Europa cioè quanto l'intera popolazione dell'Europa in un continente che tra l'altro nessuno lo ricorda ma ha 100 milioni di poveri cioè l'Europa un cittadino su 5 che è in stato di povertà cioè fatica ad arrivare a fine mese come facciamo noi a sobbarcarci con già oltre 11 milioni di rifugiati ucraini che sono arrivati dall'inizio della guerra già 2 milioni di rifugiati oltre a quegli ucraini presenti e oltre 5 milioni di immigrati irregolari solo quelli diciamo che sono stati individuati più tutti quelli che ovviamente non possiamo sapere dove sono come facciamo a garantire un futuro a tutta questa gente questo è il tema vero a cui la sinistra non sa rispondere e non sa rispondere perché la verità è che la sinistra che parla di umanità tutto il tempo ma in realtà non ha interesse a rispondere a questa cosa l'interesse che ha è al business dell'accoglienza come abbiamo visto col caso su Mauro adesso ma ancora prima col caso Mimmo Lucano che al di là delle vicende giudiziarie segnalano una cosa che l'accoglienza di queste persone è possibile soltanto con un modello di prosciugamento delle risorse diciamo della comunità degli italiani dello Stato quindi con le tasse pagate agli italiani ma non ha una sostenibilità economica e sociale questo è il vero punto e basta andare è stato citato il Belgio Bruxelles Molenbeck ma quello che è successo con i disordini in seguito alla partita dei mondiali e in realtà non è un episodio singolo andate in Francia succede succede ogni domenica ogni partita di calcio e non io su questo infatti dissento sul fatto che sia diciamo in realtà perché non non viene apprezzato che la gente segue il calcio in realtà viene utilizzata se voi seguite quello che accade in Francia dove i media non ne parlano ma tutto e settimanalmente accadono queste cose qua ogni volta che c'è l'Algeria per esempio che gioca contro la Francia ci sono disordini ogni volta che ci sono che ne so l'Olympique Marsiglia che gioca contro altre squadre ci sono disordini ma ci sono interi territori che sono fuori dal controllo dello Stato addirittura gli stessi servizi francesi hanno parlato di rischio guerra civile nel caso in cui scoppia un'altra rivolta delle Baglier come quella che accadde alcuni alcuni anni fa ci sono accoltellamenti sgozzamenti ogni giorno quotidiani quindi andiamo a parlare di poi come andiamo ad assimilare queste persone perché poi la verità di tutti i giorni è questa soltanto che chi vive nei centri diciamo all'interno delle ZTL delle città non le conosce perché tanto poi gli immigrati e i poveri li stiamo sempre nelle periferie quindi poi tocca agli altri sbrigarsela Vincenzo Soffo grazie per questo suo intervento sappiamo che insomma ha da fare e quindi la salutiamo e ringraziamo per la partecipazione alla prossima grazie buona continuazione voglio ridare la parola a Swazbai che insomma per poter replicare visto che conosce molto bene quei territori conosce molto bene la Francia eccetera possiamo essere d'accordo su quello che avviene anche un po' nel mondo ma non come inteso con qualche popolo che si ribella all'altro perché c'è uno stato in cui di non integrazione uno stato non stato in quanto Francia ma è fallito fallito tutto un sistema fallito un sistema multiculturale quello tanto caro ha una certa una certa sinistra non voglio generalizzare però su un fatto non sarei d'accordo perché i 500 persone che sono arrivati nel territorio italiano non credo che ci entri tanto Haftar perché Haftar in Libia secondo me c'è ancora un disordine creato comunque dalla Francia creato da Sarkozy in poi per quanto riguarda Macron e l'Italia Macron è un po' nervoso ultimamente ma non solo con l'Italia sta litigando con mezzo mondo è vero che le banlieue sono ormai un far west è una realtà non è solo di oggi è una realtà che è fallito è fallito perché sono come quei sussidi continui della Francia come la location familiare che ormai sarebbe il reddito cittadinanza italiano che ormai mantiene una mantiene tanta gente senza lavorare senza avere anche un obiettivo di vita futura di lavoro di c'è stato c'è stato non solo in Francia anche in Belgio sono situazioni molto grave per quanto riguarda il calcio io insisterei su questo punto Marocchino che va vince va a fare disordine anche se è vero come diceva l'onorevole prima Soffo che questo succede tutti i weekend sì è vero succede ma come è successo in Belgio è una cosa un po' particolare che secondo me ha qualche aiuto diverso da quello di tifuseria normale perciò l'immigrazione o si tratta in Europa tutti quanti o non ne usciamo più perché secondo me dipende dall'Europa l'Europa deve avere un progetto un progetto per tutti i paesi europei chi ci ha diritto può venire in Europa deve avere un lascia passare europeo tranquillamente io vengo sì la maggior parte che vengono poi in Italia mirano per andare più in Francia più in Belgio in Germania infatti questo abbiamo detto non è un secondo solo perché abbiamo parlato anche di diritto di venire diritto anche d'asilo quindi presento con grande piacere insomma so che è stato anche ospite da noi in altre trasmissioni una volta qui a Dire Donna oggi grazie a Luca Palamara ex magistrato e scrittore Buonasera buongiorno e bentrovati buonasera buonasera siamo in è notte allora allora Palamara insomma siamo passati dalla magistratura oggi insomma l'ho seguita anche qui insomma è dietro un'associazione si sta togliendo tante altre soddisfazioni insomma un rapporto diretto con con la popolazione col territorio quindi insomma ha cambiato veramente però possiamo riconoscere comunque insomma la sua competenza di anni e anni no e della sua grande esperienza ecco allora le chiedo insomma sappiamo questi ragazzi queste persone arrivano quale può essere la gestione dell'emergenza migranti quelle che vengono insomma località di sbarco insomma queste persone vengono in Italia a chiedere o anche in Europa a chiedere asilo politico sappiamo che c'è insomma comma 10 articolo 3 della Costituzione che ne prevede la concessione ai stranieri eccetera però come insomma negli anni sono seguite diverse leggi a regolamentare il diritto d'asilo oggi qual è il punto qual è la situazione allora io colgo anche l'occasione per dire che il 13 dicembre la situazione oltre il sistema che terrà un incontro all'euro in via della civiltà romana numero uno parlerà anche di questo tema questo tema dell'immigrazione è un tema che ovviamente nel nostro ordinamento in Italia si ripropone dalle leggi bossi fini e poi da quella turco napolitano non è mai stato facile affrontare questo tema e su questo tema spesso poi che cosa è accaduto quel famoso cortocircuito del rapporto tra politica e magistratura perché il tema dell'immigrazione è un tema che coinvolge i due differenti aspetti da un lato la politica che deve stabilire delle regole di ingresso nel territorio italiano dall'altra la magistratura che eventualmente si trova a dover applicare la legge da un lato il diritto d'asilo ma anche non dimentichiamolo mai che in determinate fasi del nostro ordinamento l'ingresso illegale costituiva un reale io penso che bisogna rispettare quello che è un principio fondamentale che penso sia un po' l'approccio a questo tema la vita umana che viene prima di ogni cosa però allo stesso tempo penso che le politiche interne debbano in qualche modo anche porre dei limiti all'ingresso il problema dell'immigrazione non può essere solo un problema italiano ma è un problema europeo se tanto ci battiamo per l'Europa Unita pensare che il tema possa essere solo ed esclusivamente di un paese dell'Unione significa in un certo qual modo varificare il senso dello stare insieme ed è chiaro che i paesi limitrofi come l'Italia ma come può essere Cipro o Malta sono quelli che maggiormente vanno poi in sofferenza da questo punto di vista io penso che ci sono stati dei momenti in cui anche a livello legislativo sono state fatte delle scelte importanti a mio avviso erano molto importanti quelle scelte che legavano l'ingresso al lavoro perché quello era un modo per disciplinare come avviene in tanti paesi importanti del mondo dall'Occidente agli altri continenti si entra se si è in grado poi di lavorare in quel modo questo era il meccanismo originario forzare i blocchi e in qualche modo aggirare l'ostacolo significa solo che poi il problema dell'immigrazione deve andare solo esclusivamente verso uno Stato che deve in qualche modo poi ricorrere a quelle che sono tutte le problematiche che ne conseguono l'accoglimento le problematiche legate al diritto d'asilo che finiscono per creare tutti questi problemi quindi tradotto alla domanda iniziale a livello legislativo a livello legislativo bisogna come dire cercare di far valere la propria voce in ambito europeo non è facile questo va detto con molta chiarezza non è che come dire arriva l'Italia batti i pugni sul tavolo e si risolve i problemi perché purtroppo in questi casi scattano grandi egoismi ma dall'altro pensare che in ogni caso non si debba porre un limite questo lo aveva fatto lo sta facendo non solo il governo di destra tanto per essere chiari ma fu una cosa che fece anche l'allora ministro degli interni Minniti trovare dei meccanismi di controllo e di ingresso quindi vuol dire che un tema che ormai è diventato come dire un problema di tutti e speculare da una parte o dall'altra su questo tema non va bene così come non va bene quando poi lo dicevo all'inizio si crea quel cortocircuito tra politica e magistratura cioè quando in qualche modo è la terza è la terza persona che cita Minniti allora io devo capire ma siamo allora così indietro siamo dobbiamo così o è la futura o era veramente così avvenialistica quella visione no dico gli altri due chi erano per capire che non ho sentito no va bene nel corso della puntata altre persone hanno citato Giovanardi e anche Sofo allora io voglio dire dobbiamo andare avanti è la verità però è la verità no 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 ma non sto mettendo in discussione questo dico dobbiamo comunque però andare avanti no bisogna andare avanti bisogna andare avanti in questo senso in maniera non ipocrita cercando di capire che comunque se la vita umana viene prima di ogni cosa è altrettanto io penso legittimo da parte di uno stato stabilire delle regole di ingresso perché favorire un ingresso discriminato diceva bene non è Sofo che prima mi ha anticipato poi vengono comunque in qualche modo ghettizzati nelle periferie e quant'altro diventa un problema sempre degli altri e invece il problema deve essere di tutti non degli altri ricorderete quando c'è la polemica di Capadio le altre situazioni i problemi vanno affrontati a 360 gradi quindi in qualche modo che il problema debba essere regolamentato e condiviso io penso che è uno dei punti di partenza fondamentali per approcciare il problema in mezzo a tutte quelle altre grandi tematiche che stanno venendo fuori che sono legate all'ONG e a tutti gli aspetti poi legati all'immigrazione illegale le rubo in altri due minuti però torno da Natalini visto che abbiamo parlato comunque di rimpatri abbiamo parlato anche insomma di strumenti legislativi però cioè che ci sono è citato anche lo stesso Palamara un esempio chiaro come avvengono cioè le procedure di rimpatrio le procedure di rimpatrio prevedono un rimpatrio volontario che sono molto poche per ovvie ragioni e oppure il rimpatrio forzato dove il migrante è trasportato al paese di provenienza in maniera coatta però come accennava prima l'onorevole Sofo i numeri sono irrisori rispetto a chi entra in Europa tanto per fare un esempio nel 2021 su 25.000 decreti di espulsione italiani ci sono stati si è riusciti a portarne a termine solo circa 3.500 quindi è una cosa minima tra l'altro il 57% di questi in Tunisia perché c'è un problema che si chiama accordi di riammissione l'Italia ha degli accordi di riammissione con la Tunisia per cui è stato più facile riuscire a rimpatriare i tunisini che erano venuti illegalmente in Italia il problema è quando non ci sono questi accordi di riammissione questo è un problema di volontà politica il problema è soprattutto da parte dei paesi di provenienza è stato anche la la stessa Unione Europea è stata criticata dalla Corte dei Conti Europea lo scorso anno perché appunto le politiche non sono affatto efficaci e quindi io credo che una soluzione potrebbe essere legare gli accordi di riammissione con accordi di tipo economico commerciale quindi quello potrebbe essere la via per riuscire a sbloccare la situazione altrimenti i rimpatri saranno sempre molto bassi come numeri Questa può essere una chiave di volta a Palamara e poi dopo passo anche a Sua Tresbai Palamara su questo discorso e anche poi le faccio due domande in uno sul ruolo anche dell'attività delle procure nella gestione di questi migranti sul discorso dei rimpatri è chiaro che il problema dei rimpatri è un altro dei grandi temi che è sul tavolo e sul tappeto perché comunque le procedure di rimpatrio sono sempre abbastanza difficoltose e farraginose vuoi per problemi legati a mezzi vuoi per legati a problemi economici il che poi che cosa comporta che il problema si riversa in ambito giudiziario non solo sul versante delle procure ma anche sul versante dei tribunali civili ed in particolar modo su tutte le tematiche che afferiscono al riconoscimento del diritto d'asilo che è l'altro grande tema perché poi il riconoscimento del diritto di asilo impegna a vario titolo i tribunali civili ma soprattutto coinvolge situazioni molto delicate la dimostrazione che nel territorio di appartenenza appunto la vita venga messa in pericolo e allo stesso tempo appunto la sussistenza di tutti quei requisiti che consentono di aggerare il discorso che facevo all'inizio cioè di non legare più la presenza sul territorio ad un lavoro effettivo ma ad una sorta di riconoscimento di status tra le mille difficoltà perché poi non dimentichiamo che chi ha queste che si trova in queste situazioni spesso si deve far riconoscere senza documenti senza reali possibilità che il proprio status venga compiutamente definito e poi c'è il versante penale il versante penale che è quello che come al solito suscita maggiore clamore di mediatico e quello che ha portato negli ultimi anni a diverse azioni da parte di differenti procure anche limitrofe ricordiamo appunto le diverse valutazioni che ebbe la procura di Agrigento rispetto a quella di Catania sul discorso dei rimbarchi i precedimenti all'ex ministro degli interni Matteo Salvini e l'azione delle procure anche in quel caso diventa come dire problematica sotto due aspetti da un lato l'individuazione dei cosiddetti trafficanti di esseri umani cioè quelli che trasportano le vite umane di tante persone in un territorio straniero in condizioni estremamente difficoltose e dall'altro invece il tema della mancanza dei soccorsi che involge invece la responsabilità dello Stato e sul quale nell'ultimo periodo ci sono state molte polemiche possiamo dirlo insomma da diverse insomma fazioni e da parte dall'altra esatto e anche su questo chiaramente come si può risolvere non è che c'è la ricetta di un medico che riesce come dire a prescrivere subito la medicina e la cura però ripeto una politica incisiva e coraggiosa è quella che deve riappropriarsi di questi temi quella che ripeto nel fondamentale rispetto della vita umana lo ripeto sempre perché è quello più importante da cui partire garantisca però un approccio serio al problema grazie dobbiamo chiudere i colori che vogliono in qualche modo speculare su questi temi grazie a Luca Palamara grazie per essere stato con noi alla prossima buona serata grazie non l'ho più coinvolta prego la massima sintesi insomma però ecco un pensiero anche su quelle sono le dichiarazioni e le parole di Palamara anche noi l'abbiamo sempre detto qui in questa trasmissione rispetto dei diritti umani è la prima prima cosa lo facciamo tutti i giorni e il problema è che gli immigrati quando arrivano qui rimangono sospesi non sono né cittadini né immigrati di niente perché queste persone rimangono per anni e anni senza nessun documento e rimangono entrano nel mondo della clandestinità nel mondo della prostituzione della delinquenza e qui secondo me bisogna bisogna studiare bene ecco quando arrivano le persone o le accettiamo perché questo paese le accetta oppure le rimanda indietro sono due le cose se le accettiamo le dobbiamo accettare una certa maniera se non le accettiamo le mandiamo al loro paese è un'altra cosa secondo me se le accettiamo è quello che noi vediamo tutti i giorni e non molta gente che sta in Italia da tanti tanti anni è quel permesso di soggiorno che non arriva mai e questo soprattutto per le donne e questo secondo me è un errore madornale perché poi grazie a Suad di sbagliare grazie a Suad alla prossima buona serata 20 secondi aggiungere qualcosa sul tema insomma dobbiamo attuare una politica veramente decisiva e decisa io credo che le politiche siano fondamentali ma soprattutto intervenire a monte del problema quindi la cooperazione con i paesi dell'Africa subsahariana e la lotta i trafficanti di esseri umani quelli sono le due strade che secondo me siano le più indicate grazie Andrea Natalini esperto di geopolitica grazie a voi tutti che ci avete seguito appuntamento a prossima settimana in un posto speciale torniamo al Parlamento Europeo di Bruxelles e da parte mia Gianluca Scallate è tutto ciao ciao